Benvenuti nel mio canale dove imparerete a conoscere il Feng Shui e come armonizzare la vostra casa. Oggi vedremo I 5 animali celesti del Feng Shui Quali sono i 5 animali celesti del Feng Shui? Cosa simboleggiano l'uccello fenice, la tigre bianca, il drago verde o la tartaruga nera nel Feng Shui? In questo articolo vedremo cosa significano gli animali celesti nel Feng Shui. Qual è la loro origine e come verrebbero rappresentati nelle case attuali? I 5 animali celesti sono stati studiati nel Feng Shui della forma, per migliaia di anni. Per scegliere i luoghi migliori in cui costruire una casa. Anche dove collocare le tombe dei defunti. Da dove deriva la teoria dei 5 animali celesti del Feng Shui? La scuola delle forme del Feng Shui studia le caratteristiche e le forme del paesaggio per trovare il posto migliore per costruire una casa. Questa posizione ideale, secondo il Feng Shui, è quella in cui i 4 animali celesti sono simbolicamente rappresentati nelle forme del paesaggio. La tartaruga nera nel paesaggio Un sito di costruzione ottimale dovrebbe avere una collina o una formazione montuosa dietro la casa, in modo da proteggerla dai forti venti. Questa protezione dietro la casa sarebbe rappresentata dalla tartaruga nera. Il drago verde e la tigre bianca nel paesaggio Anche ai lati della casa dovrebbe essere protetta da altre due colline. Una a sinistra che rappresenta in modo più evidente il drago verde, e una più piccola a destra che simboleggia la tigre bianca. Insieme avrebbero formato una sorta di ferro di cavallo che avrebbe protetto la casa. La fenice nel paesaggio La facciata della casa dovrebbe essere libera da uno spazio aperto. In modo da facilitare l'ingresso dell'energia chi, permettendo alla fortuna, e alla prosperità di entrare nella casa. Questo spazio sarebbe stato occupato dalla fenice rossa. Il serpente giallo non sarebbe stato rappresentato nel paesaggio perché avrebbe simboleggiato la casa stessa. Oggi può essere difficile trovare queste qualità nel paesaggio quando si costruisce o si sceglie una casa. Tuttavia, questo non deve preoccuparci, perché ci sono altri modi per rappresentare i cinque animali celesti del fenshui nelle case di oggi. Come verrebbero rappresentati i cinque animali celesti del fenshui nelle case di oggi? I cinque animali celesti del fenshui, che sono la tartaruga nera, il drago verde, la tigre bianca, l'uccello fenice e il serpente giallo, possono essere rappresentati all'esterno e all'interno della casa. All'esterno della casa sarebbero stati rappresentati in questo modo. La tartaruga nera sarebbe rappresentata dal posizionamento di una struttura alta come protezione sul retro della casa. Per esempio, da un boschetto di alberi, da una siepe alta o da un muro che offre un senso di protezione. Il drago verde e la tigre bianca sarebbero rappresentati da case o edifici adiecenti. Così come da boschetti di alberi, siepi o altre strutture architettoniche. Se la casa ha un giardino, ad esempio. Si possono collocare alberi o siepi di altezza maggiore sul lato sinistro rispetto a quello destro. Sul lato destro si possono collocare arbusti più piccoli per rappresentare la tigre bianca. Sul lato destro della casa, dove si trova la tigre bianca, si raccomanda che sia un luogo di calma. Quindi non è consigliabile avere strade trafficate, né collocare grandi strutture. Infine, per rappresentare l'uccello, della fenice, si raccomanda di lasciare libera la facciata della casa. Questo favorisce che l'energia chi possa arrivare senza difficoltà e con essa la fortuna e le opportunità. L'uccello fenice, essendo un uccello, ha bisogno di spazio per volare. Se l'ingresso della casa è bloccato da un muro o da un palo davanti alla porta, stiamo simbolicamente impedendo all'uccello fenice di volare. Allo stesso tempo, blocchiamo anche l'arrivo di opportunità nella nostra vita. Come verrebbero rappresentati i cinque animali celesti del feng shui all'interno delle case? Nella scuola di formazione, attribuiamo grande importanza al modo in cui i mobili sono collocati in relazione a porte e finestre. Quindi, ad esempio, il letto, la scrivania o il divano, si consiglia di appoggiarli a una parete. Questo ci darà un senso di protezione e sicurezza. In questo modo rappresenteremo la tartaruga nera e la sua protezione. Nel feng shui si consiglia anche di avere una vista sulla porta per dare un senso di controllo. Avere questa ampia visuale davanti a noi simboleggerebbe l'uccello fenice, che dovrà sempre volare in avanti. Il drago verde, come simbolo di saggezza, si collocherebbe simbolicamente alla nostra sinistra. La tigre bianca, simbolo di forza, sarà collocata alla nostra destra. In questo modo, la rappresentazione di questi due animali celesti ci porterà al perfetto equilibrio tra forza e saggezza. È per questo motivo che nel feng shui si raccomanda di cercare sempre l'equilibrio nella disposizione dei mobili. Nel caso di un divano o di un tavolo da lavoro, ad esempio, è consigliabile avere una protezione sui lati. Se si trovasse nel mezzo, di un ki-stream, cioè in mezzo a una porta e a una finestra, ci farebbe sentire poco protetti. Questo si tradurrebbe in una sensazione di insicurezza e di mancanza di controllo. Il serpente giallo simboleggerebbe la casa o la persona. I quattro animali celesti circondano il serpente per apportare le loro qualità. Quando questi animali celesti o protettori del feng shui sono rappresentati e in armonia, si genera l'equilibrio perfetto per vivere. Questi cinque animali celesti del feng shui, possiamo trovarli rappresentati nel terreno che circonda una casa, così come in un giardino, in una camera da letto o anche in una città. Vediamo le qualità di ciascuno di questi cinque animali celesti del feng shui. Uccello Phoenix L'Uccello Fenice nel feng shui rappresenta l'energia Yan, è associato all'elemento fuoco e al punto cardinale sud. L'Uccello Fenice, in quanto uccello mitico che risorge dalle proprie ceneri, è un simbolo di rigenerazione e di opportunità. Anche di successo di fronte alle avversità. Rappresenta l'opportunità di un nuovo inizio, ci ricorda che nulla è definitivo, e che la vita ci dà sempre la possibilità di ricominciare. Perché l'unica cosa che rimane è il cambiamento. L'Uccello Fenice è quindi un simbolo di speranza, successo e felicità. Dove si trova? Viene collocato nella parte anteriore della casa, dove avrà bisogno di un po' di spazio per ricevere l'energia chi necessaria, e poter così spiccare il volo. Nel caso in cui una casa abbia la facciata principale rivolta verso un muro alto, una montagna. O una struttura che impedisce la ricezione ottimale dell'energia chi. Si potrebbe dire che non, godrebbe della protezione di questo animale celeste. Questo vale anche se l'ingresso è bloccato, ad esempio. Da un palo o da un albero proprio davanti alla porta d'ingresso. Lo stesso accade se, ad esempio, abbiamo una parete di fronte alla scrivania. Il Feng Shui raccomanda di avere una visione dello spazio davanti a noi. Proprio come l'Uccello Fenice ha bisogno di spazio per volare. L'Uccello Fenice porta la libertà per l'arrivo di opportunità nella nostra vita. Allo stesso tempo offre anche protezione, poiché anche la facciata della casa dovrebbe essere protetta. Parleremo poi di un animale sacro molto speciale nella cultura cinese, il Drago. In questo caso il Drago Verde come animale protettivo e celeste del Feng Shui. Dragone Verde Il Drago Verde rappresenta l'energia Yang, ed è associato all'elemento legno e al punto cardinale Est. Nella tradizione cinese, il Drago Verde è stato venerato come simbolo di fortuna, prosperità e buona sorte. Il Drago è uno degli animali mitologici più rappresentati nell'arte cinese. Presente in quasi tutte le celebrazioni. Il Drago è spesso citato anche in riferimento alle correnti energetiche. Come i corsi d'acqua della natura, che sono spesso indicati come le vene del Drago. Il Drago Verde nel Feng Shui è associato all'intelligenza e alla saggezza. Si dice che il respiro del Drago trasformi l'energia dell'universo in armonia. Dove si trova? Il Drago Verde è posto a sinistra della casa o del serpente giallo, sotto forma di collina, siepe, boschetto, edificio o qualsiasi tipo di struttura che rappresenti una protezione. Il Drago Verde è, anche associato all'espansione della primavera e all'elemento legno. Con il lato più intuitivo e con la protezione degli antenati. Continuiamo con l'animale celeste complementare al Drago Verde, la Tigre Bianca. Tigre Bianca. La Tigre Bianca nel Feng Shui rappresenta l'energia più Yin. È associato all'elemento metallo e al punto cardinale Ovest. Mentre il Drago Verde rappresenta la saggezza e l'intelligenza, la Tigre Bianca rappresenta la forza. Entrambe le qualità si completano a vicenda. Per questo motivo, il Feng Shui raccomanda che entrambi siano sempre rappresentati. Perché tra loro creano armonia ed equilibrio. Così come il Drago Verde rappresenta l'energia Yin più espansiva della primavera e dell'elemento legno. La Tigre Bianca, invece, rappresenta un'energia Yin più riflessiva e meditativa, caratteristica dell'elemento metallo e dell'autunno. Rappresenta anche la protezione, poiché la Tigre Bianca è sempre attenta a qualsiasi pericolo e pronta a difendersi. Dove si trova? La Tigre Bianca nel Feng Shui è collocata a destra della casa, o serpente giallo. E la sua forma è raccomandata per essere più piccola o più bassa di quella del Drago Verde. Rappresenta l'intelligenza e la saggezza che devono sempre prevalere sulla forza. Si consiglia di collocare nella parte destra della casa in cui si trova la Tigre Bianca le stanze in cui si svolgono attività Yin dedicate al riposo o alla meditazione. Tartuga Nera La Tartaruga Nera rappresenta l'energia Yin, ed è associata all'elemento acqua e al punto cardinale nord. La Tartaruga si caratterizza per la sua lentezza e la sua pazienza, la Tartaruga rappresenta la tranquillità perché, non ha fretta. E così, lentamente e senza fretta, agendo a tempo debito, la Tartaruga raggiunge gli obiettivi che si è prefissata. La Tartaruga ci insegna a vivere e ad amare intensamente ogni momento e ogni istante della nostra vita. Dove si trova? Con il suo guscio spesso e la sua immobilità, rappresenta stabilità e protezione. Per questo motivo, è collocato dietro gli altri animali celesti. Nel Feng Shui, la Tartaruga Nera rappresenta la stabilità, la sicurezza e la solidità. Che ci fornirà protezione. Questa protezione sarebbe rappresentata all'esterno della casa, attraverso una collina. Una siepe, un boschetto o una struttura di una certa altezza sul retro della casa. Per rappresentarlo all'interno della casa, lo faremo attraverso la disposizione dei mobili, cercando di avere un muro alle spalle per dare un senso di stabilità, solidità e sicurezza. Serpente giallo Il serpente giallo rappresenta l'energia Yang, ed è associato all'elemento Terra. È posto al centro dei quattro animali celesti, e rappresenterebbe la casa o la persona. Il serpente porta forza e sicurezza, ma anche pazienza, stabilità e saggezza. Il serpente giallo nel Feng Shui, a causa della sua condizione, rimane vigile su qualsiasi movimento intorno a sé ed è attento a tutto ciò che accade. Si tratta di raccogliere le informazioni dei quattro animali celesti, per mantenere l'equilibrio e l'armonia in casa. Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi chiedo di aiutarmi con un like e se vi piacciono i miei contenuti non dimenticate di iscrivervi. E fatemi sapere se avete domande.